Ok, mi vedete? Fanno dei micenni? Sì, si vede, ok, perfetto. Allora, quasi pronta, perfetto. Allora, buonasera a tutti. Siamo qui come ogni, diciamo, due o tre volte al mese ormai ci riuniamo per raccontare il nostro business e la nostra storia, ok? Quindi se sei qui è perché comunque sicuramente sei interessato a migliorare o trovare una soluzione per migliorare la tua vita, ma magari non sai come fare, ok? Quindi immagina questa sera, ecco, di essere un video. Da una parte contieni la tua vita, rimanere nella tua zona di comfort, che ti piaccia o no, e dall'altra parte invece è una soluzione che si chiama network marketing. So che comunque ci sono tanti pregiudizi, tante informazioni inesatte riguardo questa industria del lavoro, quindi questa sera ti chiedo di mettere da parte tutto quello che sai, se sai qualcosa del network marketing, e aprire bene le orecchie e ascoltarci. Intanto ti voglio dire una cosa che già fai, noi tutti già facciamo network marketing tutti i giorni e non lo sappiamo, ok? Non ce ne rendiamo conto e nessuno ci paga. Sicuramente so per certo che ti sarà capitato di andare in un ristorante e fare una storia di un piatto del ristorante, oppure parlare del ristorante con qualche persona che magari conosci perché ti sei trovata bene in quel ristorante. Ecco, in questo caso stai facendo pubblicità gratuita al ristoratore e ovviamente non vieni pagata per questo, ok? Questo succede quando andiamo dalla parrucchiera, quando andiamo in un negozio di abbigliamento, da qualsiasi parte, ok? Ecco perché ti dico che il network marketing già lo facciamo e ti spiego perché è la stessa cosa che noi facciamo sui social. Come funziona in pratica questa attività? È un'attività legata alla... Allora, partiamo da un presupposto che dire un lavoro online c'è sempre la vendita o di un prodotto o di un servizio. In questo caso parliamo di prodotti, prodotti di benessere a 360 gradi, ok? Quindi come funziona in pratica questa attività? Scegli il percorso più adatto alle due esigenze fisiche che non per forza deve essere perdita di peso. Ad esempio sono una sportiva e quindi scelgo la mia integrazione tutti i giorni, ok? Si tratta di stile di vita sano che è ben diverso da una dieta o dal solito prodotto di perdita peso, ok? Quindi scegli il percorso più adatto alle due esigenze. Inizia a condividere la tua trasformazione fisica perché anche chi non deve perdere peso ti assicuro che ha una trasformazione fisica con questa integrazione. Quindi la condividi con chiunque sui social e nella vita di tutti i giorni. Quindi le persone vedendo la tua trasformazione iniziano a chiederti informazioni. Io penso che ti sarà capitato nella vita di fare una dieta, no? Perché comunque nella maggior parte dei casi ci sono persone che magari anche devono perdere qualche echiletto. Quindi che cosa fai? Quando ti inizia una dieta inizi comunque una tua trasformazione, le persone se ne rendono conto e ti chiedono subito informazioni. In questo caso quando ti chiedono informazioni che cosa succede? Ecco lì che fa il primo cliente, ok? Quindi quali sono i tre vantaggi se vuoi iniziare questa attività? Uno, migliorare appunto il tuo aspetto fisico in tante forme, ripeto. E hai la possibilità di acquistare i prodotti scontati del 30% che non è poco. Il secondo vantaggio non devi ruborre nulla perché appunto, se non ti ho fatto l'esempio adesso, sono le persone che arrivano da te a chiederti informazioni proprio vedendo il tuo benessere. E il terzo vantaggio è che dalla tua trasformazione fisica puoi ottenere il tuo guadagno extra. Quando parlo di guadagno extra, quindi si parla 2, 3, 4, 5, 600 euro al mese, ok? Anzi, scusa, settimana perché l'azienda ci paga settimanalmente, le puoi ottenere già facendo i tuoi primi 4, 5 clienti, ok? Quindi pensa quanto può essere automatico questo, arrivare a questo guadagno extra. Ma adesso ti voglio parlare un minuto della nostra azienda perché sicuramente sui social avrai sentito parlare di tante aziende di network. Quindi perché tu dovresti scegliere partner? Perché noi abbiamo scelto partner in co? Te lo dico subito. Nel 2023 ha fatto più di 400 milioni di fatturato. Ha 70 mercati aperti in tutto il mondo. Ciò significa che io qui da casa mia, da Roma, posso avere o un team internazionale, ok? Opera nel mercato della bellezza e del benessere che è sempre in continua crescita, se tu ci pensi è vero, perché sempre più persone sono attente alla salute e alla bellezza e quindi non risente della crisi. E poi abbiamo più di 30 prodotti certificati. Questa è tutta la gamma dei prodotti e quelli che vedi sotto sono tutti i certificati che hanno ottenuto questi prodotti. E queste certificazioni non sono state acquistate dall'azienda, ma sono state raggiunte attraverso dei test che hanno superato questi prodotti, test molto molto rigidi. In più sono prodotti brevettati. Vai su Google e accertati di quello che ti sto dicendo, che nessun altro brand riguardo il benessere ha queste certificazioni, oltre ovviamente all'autorizzazione del Ministero della Salute, altrimenti non si potrebbero vendere. Sono prodotti adatti a qualsiasi tipo di esigenza fisica. Quali sono le caratteristiche di questi prodotti? In natura che al 100%, basso contenuto glicemico e adatti anche ai vegani. Per quanto riguarda invece il piano compensi, anche qui ti invito ad andare su Google e ad accertarti di quello che ti sto dicendo. Il nostro piano compensi paga fino al 51% di commissioni. Come ti dicevo prima, noi abbiamo un pagamento settimanale domani, anzi alcuni anche oggi hanno già ricevuto le commissioni di questa settimana. Normalmente avvengono il venerdì e quindi c'è la possibilità, pensa, di ottenere il tuo primo guadagno extra già dalla prima settimana. E ti posso assicurare che ci sono state tante clienti che dalla propria trasformazione fisica, senza veramente rendersene conto, hanno ottenuto il loro primo guadagno extra già dalla prima settimana. Ma come si inizia? Allora, l'unico costo obbligatorio sono i 29,95€ per iscriverti come partner dell'azienda. Che cose ricevi? Un ufficio online personale, accesso all'app, anche tramite l'app, la formazione aziendale e la nostra formazione e il supporto costante del team. Ed è tutto gratuito, tutto in questi 29,95€, ok? Quindi ci tengo a precisare che comunque non c'è obbligo di acquisto di prodotti, però sarai sicuramente d'accordo con me che ti ho spiegato fino ad ora che tutto parte dalla nostra trasformazione fisica. Quindi è come se io volesse aprire un negozio online e se non ci metto i prodotti dietro, se non credo in quello in cui parlo, le persone ovviamente non mi daranno retta. Ora voglio raccontarti, vogliamo raccontarti le nostre storie. Perché questo? Perché non ci conosci, quindi io posso dirti qualsiasi cosa di bello, ok? Ma sia Liliana, Angela e poi io ti racconteremo la nostra storia per farti capire come è cambiata la nostra vita, come sta cambiando la nostra vita grazie a questa attività. Noi siamo solamente tre delle tante donne che sono in questa attività e che stanno continuamente cambiando vita. Quindi io passo subito la parola a Liliana. Eccomi, eccomi. Eccoti. Ciao a tutti, buonasera e grazie per essere qui che non è mai scontato. Allora, voglio proprio partire da raccontarvi questa sera da quella foto lì su quel pontile al lago che praticamente è di fronte a casa mia, dove abito adesso, e dove ho la possibilità di lavorare ogni giorno. Non lavorare dentro un ufficio, non lavorare dentro un supermercato, non lavorare dentro a una libreria, ma lavorare lì. E magari c'è stata gente che adesso si chiede, beh, ma com'è possibile? È possibile grazie ad un telefono, grazie ad una connessione e grazie a quello che ci mette a disposizione la nostra azienda, che è l'azienda numero uno al mondo in fatto di piano compensi. Ci tengo a dirlo, l'ha già detto Claudia, ma è una soddisfazione perché lo siamo da qualche mese e quindi questo per noi è una grandissima soddisfazione. Quello è un guadagno medio settimanale della mia attività, del mio business, e ci tengo a dire questa cosa. In questo momento io sto vivendo una situazione un po' particolare che mi ha fatto apprezzare ancora di più questo lavoro ad oggi. Perché quando si è tutti felici, va tutto bene, no? Magari sorvoliamo di essere grati per quello che abbiamo, no? E sottovalutiamo anche, ecco, questi lavori qua, che ad oggi il lavoro online è il lavoro che sta diventando, prendendo tanto piede in Italia, proprio dal dopo pandemia. Io ad oggi mi trovo a svolgere questo lavoro anche in una corsia di ospedale, anche in una corsia di una fisioterapia, dal 9 di gennaio, perché mio marito non sta bene, quindi per stare vicino a lui continuo comunque a lavorare, non trascuro il mio lavoro, le mie clienti e il mio team. Ecco, ci tengo a soffermarmi su questo perché oggi tante donne nel mondo del lavoro, purtroppo, sono costrette a fare delle rinunce importanti per stare magari vicino a un figlio o magari vicino a un marito perché la donna sul lavoro viene capita pochissimo, anche l'uomo, ma la donna ancora meno. E quindi o va a lavorare o rischia licenziamenti, eccetera. Ed è quello che succede normalmente oggi. Noi abbiamo la possibilità non solo di continuare a guadagnare, ma anche di decidere di alzare il nostro stipendio, ma comunque di non fermarci mai. Perché questo è un business autonoma, un business che può darti una libertà, perché ricevere mille euro di guadagno a settimana non è assolutamente scontato, perché oggi alcune donne non lo ricevono neanche in un mese. Sono partita, come vedete, da quella foto lì sfocata nel 2018, ma mi ero già da poco licenziata dal mio lavoro dopo dieci mesi di affiancamento. Sono stata un consulente del lavoro per venticinque anni e era quello che io amavo, era la mia vita. Poi mi sono resa conto che qualcosa non funzionava più. La crisi ci aveva portato delle situazioni, dei scompensi lavorativi e mi sono trovata io a stare male nel posto di lavoro che avevo costruito, nel posto di lavoro che oggi è il posto di lavoro tradizionale. E quindi mi sono affacciata a questo mondo con zero competenze, alla soglia dei 50 anni e ve lo giuro, io ero terrorizzata, terrorizzata dal farmi le foto, dal fare un post. E qua c'è Claudia che è il mio sponsor, che sa benissimo quello che ho dovuto affrontare e quanti pianti e quanti passi indietro, perché magari la vergogna, la paura del giudizio, tutto quello che tutte quante voi sicuramente pensate ad oggi che volete aprire quel codice. Però alla fine ho detto che cosa ho da perdere? Niente. E vedevo la mia vita già su quel pontile, io già la vedevo lì, perché era quello che volevo, perché per venticinque anni sono stata chiusa dentro a quattro mura, sicuramente con un ottimo stipendio, ma che non riuscivo neanche a godermi, perché io non c'avevo il tempo. Io non avevo il tempo. Ho lasciato mia figlia e mia mamma per 12-13 anni, fino a che ora è diventata autonoma. Mia mamma tornava e mi diceva, ho messo il dentino, ho camminato. E quante di voi oggi mamme sicuramente stanno vivendo questa situazione? Ecco, io ho questo rimpianto, che oggi mi godo mio nipote, che ha dieci mesi, e posso, senza chiedere niente a nessuno, vederlo crescere, vedere fare i primi passi. Quindi, magari tante mamme che oggi sono qua, e io già ne ho viste due di quelle che ho invitato, non fate il mio stesso errore, di dovervi privare delle cose più importanti che abbiamo nella vita, le cose più importanti, perché oggi la soluzione c'è, per stare vicino ai vostri figli e lavorare. Quindi vi dico, buttatevi, perché se ci sono riuscita io, ragazzi, lascio la parola ad Angela, la mia collega, che vi raccontrerà la sua storia. Grazie Lili. Ci sei Angela? Ci sono, ci sono. Buonasera a tutte. Allora, mamma mia, è sempre emozionante. Innanzitutto, grazie a tutte di essere qui. Allora, noi stasera vi abbiamo invitato in questa Zoom di presentazione, sicuramente già ci seguite dai social, però perché vi abbiamo portato qua? Per farvi capire in maniera ancora più semplice che questa attività è un'opportunità. Magari se è messa sulle vostre strade voi pensate che, diciamo, è qualcosa che possa arrivare così. Invece per me questa opportunità, personalmente, è un'opportunità che dico, ad oggi vi dico che non è arrivata a caso e ad oggi vi dico che è un'opportunità che ha totalmente stravolto la mia vita. Sicuramente questa slide può impressionare qualcuno, può spaventare qualcuno e sicuramente il nostro intendo, il mio intento, non è colpirvi con il mio assegno settimanale, ma bensì con la storia di una mamma, una mamma che si è approcciata a questo mondo semplicemente da cliente. Quindi io ho conosciuto i prodotti perché avevo bisogno di tornare in forma. Vivevo una situazione veramente di disagio, ma soprattutto interiore, più che esteriore, che poi esternava nel mio aspetto fisico. Io non mi sentivo realizzata, non mi sentivo felice, mi sentivo quasi inutile. È brutto da dire, questa parola è brutta da dire, però è così, erano le mie sensazioni, perché passavo le mie giornate in casa, su un divano, l'unica cosa che facevo era ingozzarmi, ingozzarmi, mangiavo e mi facevo male. Dopo 15 giorni che io mi sono approcciata a questo percorso, ho aperto il codice. Ragazze, donne, mamme, mogli, io non avevo esperienza, io non sapevo nemmeno che stavo iniziando un'attività di network marketing, non sapevo a quello che andavo incontro, ma io dentro di me avevo proprio la necessità e il bisogno di volermi salvare in qualche modo e mi sono approcciata a questo business, mi sono aggrappata a chi ci stava riuscendo prima di me, a chi mi voleva insegnare, come noi oggi facciamo con i nostri team e sinceramente io ne avevo bisogno. E vi dirò ancora un'altra cosa, non è a caso questa attività è arrivata nella mia vita, perché io ho iniziato, il mio primo bambino aveva otto mesi, ho iniziato, vi ripeto, per provarci, però quando è stato diagnosticato l'autismo a mio figlio, Domenico, lì mi sono detta no Angela, tu ci devi riuscire in questa attività, perché non hai un'altra opportunità là fuori, tu non puoi trovare un lavoro nel mondo del lavoro tradizionale, tu devi seguire il tuo figlio, tu ti devi dare forza, tu devi essere forte per te stessa e per il tuo bambino. E quindi io mi sono aggrappata doppiamente a questa attività, per me, perché cercavo un riscatto e soprattutto perché mio figlio meritava una mamma che fosse una combattente, non potevo annientarmi e quindi per questo questa attività mi ha salvata la vita. Mi emoziono sempre, perdonatemi, però chi è mamma mi può capire. Questo è il mio miracolo, sono partita da zero, non sapevo fare questa attività, l'ho imparato, ho imparato a fare questa attività perché non avevo alternativa, perché lo desideravo per me e per la mia famiglia. Quindi quello che vi voglio dire, questa sera ho iniziato con poco e da qui si vede i primi guadagni, guardate qua, 100 euro, 90 euro, cioè si inizia con poco, si inizia con zero, non si possono pretendere determinati risultati dall'oggi al domani. Bisogna capire che il più grande investimento da fare è su stessesse, mettersi in gioco, metterci la faccia. Questo è l'unico prezzo da pagare in questa attività, ragazze, cioè vi sono molto onesta, dovete essere disposti a mettervi in gioco per realizzare i vostri sogni e per migliorare la vita della vostra famiglia perché qui nessuno vi dirà mai quanto valete, nessuno deciderà per voi di quanto sarà il vostro stipendio o quant'è il vostro valore in questa attività. È tutto nelle vostre, nelle nostre mani perché continua ad esserlo anche ad oggi noi che continuiamo a lavorare incessantemente, che scendiamo in campo in prima linea per dare l'esempio a tutte quelle donne che si uniscono alla nostra squadra, per dare l'esempio a tutte quelle donne che partono da zero che tutto questo è possibile perché pure io quando ho iniziato questi risultati non li credevo possibili per me e li guardavo sugli altri. Ad oggi io sono padrona di questi risultati, io li vivo costantemente, io ho migliorato lo stile di vita della mia famiglia, io vado a fare, cioè io sono grata e direte grazie con 4.000 euro che guadagni a settimana. No, io continuo ad essere la donna di prima perché poi quando la vita ti cambia e vivi delle situazioni difficili i soldi non cambieranno mai il tuo modo di porti alla vita. Mi sto dilungando, perdonatemi, però questo concetto ve lo voglio esprimere perché credo che sia fondamentale. Io oggi sono grata quando vado al supermercato e non guardo i prezzi dei prodotti e faccio la spesa senza fare i punti. Sono grata quando porto mio figlio al McDonald's, quando lo porto sulle giostre, quando posso dire alla mia famiglia andiamoci a mangiare una pizza fuori. Io sono grata per queste piccole cose perché oggi, oggi come oggi nel mondo veramente tante persone desiderano anche portare i propri figli al McDonald's al McDonald's o alle giostre. Io grazie a questa attività ho raggiunto un'indipendenza che mi fa vivere in maniera serena partendo da zero. Quindi non pensate a quello che non sapete fare ma piuttosto focalizzatevi su voi stesse su dove volete arrivare, quali sono i vostri sogni e perché volete iniziare questa attività che possa migliorare la vostra vita. Questo è quello che vi voglio dire. grazie Angela grazie mi avete emozionato come sempre la vostra storia la so in memoria ma ogni volta esce qualcosa di più ogni volta vengono i brividi. Va bene quindi chi sono io? Io ho iniziato questa attività nel 2014 sono stata una delle pioniere di questa di questa strategia che utilizziamo ormai tutti sui social che è quella che ha rivoluzionato il mondo del network marketing ed è quella che ci hanno poi ricopiato veramente tante aziende. Io vengo da una famiglia di imprenditori di commercianti abbiamo perso tutto io e la mia famiglia nel 2011 mi sono ritrovata a ripartire da zero completamente da zero e se qualcuno ha perso tutto mi può capire quanto è veramente tosta questa situazione e mi sono rimboccate le maniche con un figlio mio figlio aveva sei anni all'epoca non potevo lasciarmi andare quindi ho iniziato a fare qualsiasi tipo di lavoro pur di mantenermi e nel momento in cui ho conosciuto questa attività 28 aprile del 2014 io facevo la commessa stavo andando al negozio ho visto un post su facebook che parlava appunto di attività online io sono un po' folle mi ci sono buttata ma perché non perché non avevo niente da fare perché ero la disperata ricerca di un guadagno extra come diceva Angela io ero una di quelle che quando andavo sul mercato dovevo fare i conti con quello che avevo sul mio conto corrente o quello che avevo in tasca e molto spesso al mio figlio dovevo dire di no ok e per non parlare poi di tutte le altre spese quindi ero la disperata ricerca di un guadagno extra dico ok io ho già toccato il fondo ho già perso tutto io mi butto male che vada resto così come sto perché tanto peggio di così non potevo stare questo è stato il mio ragionamento ed è quello che mi ha tranquillizzato perché non credete che noi appunto non avevamo le nostre paure lo scetticismo contro il network marketing è una setta e sembra un guadagno facile no perché a primo impatto sembra un guadagno facile non lo è è molto semplice da imparare questa attività rispetto a tante altre attività ma se non ti impegni questi risultati ma anche un semplice guadagno extra non arriverà mai ok quindi non ti stiamo vendendo fumo non ti stiamo vendendo favole questa sera quindi ho iniziato questa attività e nel giro di dieci mesi ho fatto tutte e due lavori insieme non è stato facile conciliare i due lavori il figlio i problemi la casa eccetera però quando hai fame di cambiare ti posso assicurare che noi donne siamo multitasking e ci riusciamo benissimo quindi in quei dieci mesi ho fatto due lavori insieme quando mi sono creata una base economica ho deciso poi di licenziarmi e quindi dal 2015 faccio solamente questo come lavoro quello che tu vedi lì quei tredicimila euro è il guadagno ho preso un guadagno tipo che è di dicembre ok ovviamente può oscillare ma più o meno questo è il mio guadagno mensile che è praticamente pari al guadagno che avevo annualmente quando lavoravo come commessa come diceva Andrea sembra assurdo ok sembrano cifre assurde possono metterti paura sono cifre vere questo perché perché non abbiamo mai mollato sono dieci anni che faccio questa attività non ho mollato un giorno e non mollerò perché comunque io che sono stata ho avuto delle aziende e sono stata dipendente ti posso assicurare una cosa che non esiste al mondo un lavoro così meritocratico ok non esiste quello che tu vedi invece a sinistra sono i guadagni del le date sono scritte in americano e quindi dieci settembre dieci agosto dieci luglio ok sono gli importi i miei primi guadagni e quindi puoi vedere siamo tutte partite da zero quindi intanto interrompo e questo per dirti cosa che comunque se sei qui di questa sera è sicuramente perché sei alla ricerca di una soluzione so che lì fuori di soluzioni non se ne trovano più che altro se ad esempio volessi aprire una tua attività una tua attività imprenditoriale devi investire una cifra molto importante con il grosso rischio che comunque non sai neanche se ti rientrano questi soldi ok quindi il rischio qui è praticamente pari allo zero la cosa che ci tengo a dirti prima di salutarti è che comunque non sarai sola perché comunque noi siamo il saremo il tuo team hai le chat hai la formazione a disposizione che appunto è gratuita e tu devi mettereci solamente l'impegno e la voglia di imparare questa attività e di impegnarti tutti i giorni come un qualsiasi altro lavoro e da lì lancerai la tua attività online quindi io ti ringrazio vi ringrazio tutte per essere state qui questa sera e spero la prossima volta di trovarvi da quest'altra parte e di essere voi e di invitare altre persone a questi nostri eventi grazie grazie Angela grazie Liliana grazie a tutte buona serata ciao ciao